Il risultato si scherisce al primo posto della classe di Capraviglia. Sembra più bello c'è l'altro. E la volta di Pochito, il numero 48, con Caterina Castagliari. Vuol dire tagliare. Secondo cavallicampo, Ingold, alla porta, a Maragliare. E' un po' piccolino. E' un po' piccolino. Alla potenza abbiamo Ingold, numero 53, con Andrea Portella. Secondo cavallicampo, Malagliare, alla porta.